Cari amici ben trovati, nuova diretta di blogdem.it, il portale promosso dal gruppo regionale del Partito Democratico in Consiglio regionale della Lombardia. Quest'oggi parliamo di legge sui nuovi luoghi di culto in Lombardia, una proposta che va a modificare, almeno nelle intenzioni della maggioranza, le attuali normative che sta facendo discutere da parecchie settimane. Alcuni l'hanno ribattezzata legge anti-moschee e in realtà è una legge che va a interessare tutti i luoghi di culto che non appartengano alla religione cattolica presenti in Lombardia. Fino a qualche giorno fa poteva anche avere degli elementi retroattivi, in questo momento l'ultimo emendamento dei vari presentati dalla maggioranza avrebbe escluso questa fattispecie. Ne parliamo con vari ospiti, almeno per il momento due, poi probabilmente ce ne aggiungerà anche qualcun altro. Partiamo prima da coloro che vengono dall'esterno. Reas Zayed, ben trovato Reas, che è avvocato e rappresenta in questa vicenda il CAIM. Buongiorno a tutti, grazie intanto per averci invitato. Sì, rappresento il CAIM che è il coordinamento delle associazioni islamiche di Milano, Monza e Brianza e ovviamente noi crediamo che questa legge non sia stata casualmente denominata legge anti-moschee perché tende a colpire in primis le nostre comunità che attraverso una situazione delicata, benché ci sia una comunità musulmana numerosa, si parla a Milano di circa 100.000 soggetti che professano la fede islamica e in tutta Lombardia circa 450.000 musulmani, beh non c'è ancora la possibilità di avere dei luoghi di culto ufficiali che comporta tutta una serie di cose che avremo modo di analizzare. Quindi questa legge in particolare tende a bloccare un percorso verso, come dire, la formalizzazione e l'ufficializzazione dei luoghi di culto anche per i musulmani e quindi contiene degli elementi che discuteremo. Poi ti chiedo subito scusa perché ho detto un cognome strano, in realtà è Syed, ho sbaglio? Syed. Syed, allora vedi, Ale, avanti così. Non ridere, tu che sei arrivato in ritardo e saluto in questo modo Onorio Rosati, consigliere regionale per il PD qui in Lombardia, come consigliere regionale e anche Jacopo Scandella che siede qui alla mia destra. Allora, ricostruiamo brevemente le tappe di questa proposta di legge che ormai da qualche settimana, stavo dicendo, ci sta vedendo impegnati a discutere. Sì, buongiorno a tutti intanto, grazie. Diciamo che l'iter di questo progetto di legge è stato un po' bizzarro, nel senso che inizialmente la Lega ha presentato un progetto di legge nel quale venivano proposte alcune idee, diciamo discutibili, ma per usare un eufemismo, per esempio per la realizzazione di nuovi luoghi di culto era previsto un referendum, cioè una consultazione popolare, non si capisce bene tra chi, tra le persone del quartiere, del comune, tutta la regione. C'erano delle proposte oggettivamente abbastanza bizzarre che erano state stroncate dall'ufficio legislativo, dai pareri legali degli uffici del Consiglio. Quindi è intervenuto un primo emendamento del relatore, Roberto Anelli, sempre della Lega Nord, a questo progetto, che ne ha, diciamo così, alimato gli aspetti che erano palesemente incostituzionali e palesemente contro ogni logica, lasciando tutta una serie di aggravi burocratici per la costruzione di nuovi edifici di culto, perché innanzitutto di questo si tratta, cioè i comuni dovranno andare a redigere un piano delle attrezzature religiose, parte del piano di servizi, quindi diciamo nello strumento urbanistico dei comuni ci sarà questo piano, che prevede tutta una serie di regole, per esempio la necessità di prevedere il 200% della superficie lorda di un edificio di culto per parcheggi, la necessità di dotare i luoghi di culto di un impianto di videosorveglianza, piuttosto che una serie di aggravi burocratici che non solo vanno a colpire, come si diceva, quei bandi e quelle proposte di realizzazione di moschee, ma anche, come abbiamo avuto modo di conoscere in audizione, tutta una serie di soggetti, dalle comunità ebraiche alle chiese evangeliche, protestanti, metodiste, eccetera, che sono radicate e presenti in misura diversa sul territorio lombardo. È di questi ultimi giorni un secondo emendamento del relatore che francamente non va a modificare quello che è il tema vero della legge, quindi questi aggravi burocratici, tra cui la VAS, quindi la valutazione ambientale strategica, per i luoghi di culto, altro assurdo di questa proposta, non viene tolta ma viene soltanto mascherata dentro la legge, infatti rimane, e rimane quel tema che poi è il cardine della proposta, e cioè che si stipolano queste nuove norme anche per quelle religioni che hanno sottoscritto intese con lo Stato. Quindi anche questo è un aspetto che va sostanzialmente contro un principio, e cioè quello che è la libertà di culto, da diverse sentenze della Corte Costituzionale, è strettamente legata alla possibilità di edificare luoghi di culto, e quindi questa possibilità di esercizio va di pari passo con l'avere dei luoghi nel quale pregare. Onorio Rosati, un tema di fondo è l'incostituzionalità di un progetto di legge di questo tipo, eppure, nonostante le tante insistenze del Partito Democratico, su questo pare che la maggioranza abbia intenzione di andare avanti dritta. No, anzi, si ha la netta sensazione che vogliono proprio farsi bocciare poi in sede di ricorso il testo della legge per fare propaganda, l'ennesima campagna elettorale, come purtroppo questa giunta ormai da troppo tempo ci ha messo di fronte, nel senso che noi abbiamo anche provato a tentare di ricondurli a un ragionamento concreto, di buon senso, facendo fare anche tantissime audizioni, alcune delle quali non sono state accettate, abbiamo chiesto che fosse audito anche, ad esempio, il Comune di Milano per il bando che sta gestendo adesso, il Comune di Crema, qualche funzionario, qualche responsabile anche, non so, della Prefettura, della Questura, perché loro all'interno del dispositivo prevedono anche degli interventi eccezionali dal punto di vista dell'ordine pubblico, queste cose sono state rigettate, abbiamo però avuto modo di ascoltare, di sentire le ragioni dei rappresentanti di tutti i culti, compreso la Chiesa Cattolica, naturalmente, i quali si sono espressi tutti unanimemente contro un tentativo, questo mi pare che sia un po' il cuore della vicenda, di utilizzare una legge, diciamo, urbanistica, per di fatto limitare la libertà di culto all'interno della Regione Lombardia. È del tutto evidente che vogliono portare a casa questo risultato, lo vogliono fare in fretta, perché c'è da parte loro il tentativo di frapporsi rispetto alle vicende che riguardano appunto la città di Milano e che riguardano la città di Crema e quindi di fatto non c'è stata una volontà di dialogo, anche perché dopo, francamente, dopo tutte queste audizioni, che sono state audizioni che hanno affrontato anche l'aspetto tecnico, diciamo così, del PDL con i relativi maxi emendamenti che erano stati presentati, ci saremmo aspettati delle modifiche molto più consistenti, invece queste modifiche non ci sono state. Hanno sostanzialmente, e anche, devo dire, le reazioni, una su tutte, dall'assessore Beccalossi, che di fatto non ha partecipato alle sedute e alle audizioni, ma ha dichiarato che le cose dette non avevano sostanzialmente messo in discussione la struttura del PDL. Beh, questa è la dimostrazione che è un'operazione tutta politica di chi non vuole effettivamente dialogare, e di chi non vuole capire come il mondo attorno a noi sta cambiando. Sono state fatte diverse audizioni, come diceva Onorio Rosati, nel corso delle quali sono state articolate diverse posizioni. Io vorrei chiedere all'Avvocato Rea Sayed di dirci un po' l'ottica con cui, come CAIM, sono arrivati a queste audizioni. Beh, in realtà noi siamo arrivati a queste audizioni anche con una certa perplessità, perché quando abbiamo visto la proposta di legge siamo rimasti scioccati. Poi abbiamo condiviso i ragionamenti che stavamo formulando noi, abbiamo avuto modo di vedere che erano condivisi dall'ufficio legislativo e da tutti gli altri culti in realtà. E quindi, secondo noi, anche battezzare la legge come anti-moschee è in qualche modo sbagliato, è una legge anti-culto. E questo, devo dire, che ci ha stupiti in realtà che potesse passare così tranquillamente questa fase legislativa. L'audizione noi l'abbiamo vista come un momento sicuramente di confronto e ci siamo presentati con la massima apertura e la massima volontà di dialogo. Era la prima volta che in Regione Lombardia veniva ascoltata un'associazione appartenente al culto islamico e quindi era nostra volontà essere assolutamente dialoganti e prospettare quelle che secondo noi erano le vicende che ci toccavano più da vicino perché l'istituzione è anche un'istituzione che deve governare il fenomeno islam come siamo noi, ma governarlo, non curarsene o essere intollerante verso questa realtà. Ci ha stupito il fatto, dopo essere usciti dall'audizione, sentire le risposte attraverso i giornali e prese di posizione da parte di chi non c'era che ha definito le nostre posizioni come mera propaganda politica. Se fossero stati presenti ad ascoltarci si sarebbero resi conto che abbiamo fatto anche una serie di rilievi tecnici molto specifici, ad esempio anche il fatto che venga utilizzata la materia urbanistica per regolare un fenomeno che è quello del culto, che non rientra certamente tra le competenze della Regione, che nel dettaglio vengano disciplinate, vengano posti dei paletti davvero restrittivi e non si capisce su quali basi, uno su tutti, la distanza tra i luoghi di culto di diverse fedi, non si capisce in base a quale principio le chiese devono essere distanti dalle moschee e dalle sinagoge, mentre in tutto il mondo in realtà i nuovi progetti vanno in direzioni totalmente opposte. Anche nei grandi eventi che ci sono, vediamo a vedere ad esempio le Olimpiadi che ci sono state a Londra o come potrebbe essere l'Expo a Milano, i luoghi di culto sono spesso più luoghi condivisi tra i fedeli delle diverse religioni perché in realtà non c'è nulla che preveda in nessuna delle religioni di tenere distante un culto dall'altro, anzi i fedeli hanno spesso molte cose da condividere che limitarsi a, come dire, spartirsi gli spazi. Quindi queste e tante altre cose vanno in una direzione che non si riesce a capire, sicuramente non a passo con i tempi, sicuramente lontano da quella che è la realtà che questa istituzione è chiamata a governare. Abbiamo qualche intervento da parte di navigatori di internet, vedo qui una domanda da parte di chi si firma Massimo Marianella, dubito che sia il collega giornalista commentatore, però è un pseudonimo, buttiamola così, temo che con il buonismo e politicamente corretto non si attenga altro che aumentare la schiena dell'intolleranza. Secondo voi basta lasciare costruire le moschee per risolvere il problema? Ed è sufficiente dire che i leghisti sono rozzi e razzisti per rassicurare il cittadino medio, spesso senza strumenti culturali e sociali nell'affrontare il tema dell'integrazione? Come rispondiamo Jacopo? Io credo che si possa rispondere con uno slogan che è quello che deve accompagnare il nostro approccio, che è stessi diritti, stessi doveri, cioè senza buonismo, senza quello che appunto da alcuni commenti che leggevo viene definito come buonismo, quindi il chiudere due occhi, il dare l'impressione che ci siano, per così dire, cittadini di serie A e di serie B, ma alla stessa maniera non pensando che per tutelare la nostra democrazia, i nostri diritti e le nostre libertà si debbano sottrarre libertà ad altri. Io leggevo un commento che diceva, però vai a costruire una chiesa a casa loro. Un rubarbero che volevo farlo commentare a un altro. Io l'ho detto in commissione e lo dico anche qui, io voglio continuare a vivere in un paese nel quale certe libertà sono garantite a tutti perché sono un caposaldo del nostro vivere. Io voglio continuare a vivere in un paese così perché voglio continuare a poter dire ad altri che sbagliano se non lo fanno. E credo che questo approccio molto serio richieda però non le urla e i progetti di legge pretestuosi perché noi abbiamo dei problemi molto concreti. In Germania oggi si stanno costruendo centinaia di moschee. Perché? Perché ci si rende conto che per governare questo fenomeno, e cioè una presenza massiccia anche di persone di culto diverso, c'è la necessità di organizzare una presenza con luoghi di culto che siano ben distribuiti sul territorio e che non portino ad una ghettizzazione di alcuni quartieri piuttosto che a problemi anche di ordine pubblico. Invece qui si preferisce tenere una situazione un po' opaca perché ci sono tanti centri culturali che fungono da luoghi di preghiera dal momento che non viene garantita la possibilità di identificare dei luoghi di culto a pieno titolo. Sono luoghi che spesso non sono nemmeno degni di essere chiamati di culto perché non sempre si trovano nelle condizioni per esserlo. Io credo che questo non sia un approccio serio e penso che la Lega porti avanti una battaglia, un po' come è stato in questi giorni sul tema della riforma Fornero, ben sapendo che una cosa non si può fare, la si fa lo stesso per poter dire alle persone che noi ci abbiamo provato ma poi gli altri ce la bocciano. Io credo che ci voglia un approccio diverso che si fondi essenzialmente su stessi diritti, stessi doveri. Un altro navigatore che si firma, Auro, anche qui altro riferimento, scrive A volte le cose, anche se giuste, non sono opportune. Non pensate che questa battaglia, se non comunicata bene, rischia di essere giusta ma non opportuna? Come rispondere, Onorio? Probabilmente non si sono prese delle scelte adeguate nei tempi dovuti perché non sono mai state considerate politicamente opportune. Noi dobbiamo anche avere un senso di responsabilità nei confronti della comunità che vogliamo governare, che vogliamo amministrare. Nel senso che noi siamo chiamati a trovare delle soluzioni anche a situazioni che sono oggettivamente difficili e che possono non darti immediatamente un consenso dal punto di vista elettorale, anzi. Allora, il tema dell'opportunità e dell'inopportunità è un tema che non è in sintonia con quelli che sono spesso i problemi che vanno affrontati. Questo è un problema che non è stato affrontato quello di garantire la libertà di culto per troppi anni. Si è, come si è detto, preferito utilizzare delle soluzioni che erano delle soluzioni opache perché queste erano più compatibili con un comun sentire di un certo tipo anche di cittadinanza che era particolarmente sensibile a taluni anche messaggi politici che venivano dati e il risultato è questo che abbiamo 400.000 persone di religione islamica in Lombardia che non hanno luoghi di culto e che sappiamo tutti però che pregano regolarmente. Quindi vuol dire che si è deciso di non vedere un fenomeno perché veniva considerato un problema e se è possibile alimentare anche le paure. Quindi è il momento per discuterlo, è il momento per provare a trovare delle soluzioni condivise, è il momento della responsabilità da parte di tutti. A questo riguardo c'è il Comune di Milano che a differenza di tante altre realtà ha assunto la decisione di predisporre questo bando per individuare dei luoghi di culto. Sappiamo che potrebbe anche questo non essere la soluzione definitiva rispetto a un problema però segna un punto di cambiamento pur con tutte le difficoltà che anche lì dentro ci sono. Un punto di cambiamento perché la cosa ottimale che per esempio è emersa anche all'interno della discussione che abbiamo fatto in queste sedute di commissione è stato il fatto che ci dovrebbero essere tanti luoghi di culto di dimensioni anche medio-piccole diciamo così più compatibili anche col tessuto urbano con la comunità e quant'altro. Questo sarebbe l'ottimale. Sullo sfondo avevamo ad esempio la fotografia di una città come Sarajevo che è multietnica e multa religiosa diciamo da secoli e li vediamo come la convivenza tra confessioni differenti sia diciamo così una condizione molto chiara e molto evidente non dimentichiamo che qualche decennio fa ci furono delle guerre che vennero anche spacciate per guerre anche per diciamo che sono passate anche attraverso le differenze religiose però come dire una città che non ha fatto un passo indietro ha rilanciato la multireligiosità come un elemento costitutivo e quindi io penso che noi dobbiamo attestarci qui c'è una costituzione che noi non solo difendiamo ma che vogliamo promuovere che vogliamo difendere che prevede la libertà di culto non regolamentata da accordi da cose la libertà di culto che noi dobbiamo garantire anche ai cittadini ai cittadini milanesi i cittadini lombardi perché di questo si tratta perché ogni volta che si parla di altri culti si pensa che siano tutte persone che vengono da fuori tutti stranieri tutti irregolari ecco questa è una visione caricaturale il fenomeno quando abbiamo fatto le nostre audizioni c'erano fio e fio di cittadini milanesi e lombardi che sono venuti qui hanno chiesto di poter vivere la loro religiosità in modo responsabile e libero io penso che la politica debba assumersi il compito di dare una risposta positiva e la regione Lombardia sta evidentemente andando nella direzione opposta a questo punto io torno con l'aiuto dei messaggi che arrivano dalla rete a provocare questa volta l'avvocato Sayed basta bonismo basta moschè padroni a casa nostra provate a costruire una chiesa a casa loro ecco in poche parole ho distrutto la vostra bella discussione forbita come rispondere? ma credo che in realtà ci sia un grosso fraintendimento in questo ragionamento quello che si chiama buonismo finora in realtà non è altro non è stato che una non curanza quella che si chiama tolleranza è stata una non curanza un fenomeno che c'è di cui non si è preso atto e che non si è regolamentato su cui non si è agito e adesso che si cerca di regolamentarlo lo si fa ignorando il fenomeno quasi sorpassandolo e per quanto riguarda invece la costituzione o la costruzione di luoghi di culto nei paesi islamici anche qua c'è un grosso fraintendimento cioè ci sono oltre 40 paesi musulmani in giro per il mondo e nella stragrande maggioranza di quei paesi i luoghi di culto per le minoranze religiose ci sono anzi c'è un precetto religioso nell'islam che prevede come dovere dei musulmani il garantire la libertà di culto a chi non professa la fede islamica quindi è proprio un dovere anche coranico questo per i musulmani e prendiamo esempio anche ad esempio del mio paese di provenienza anche se io ormai sono italiano che è il Pakistan che ha tantissimi ormai sono italiano non mi chiedevo così purtroppo ormai sono italiano no 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 perché non posso rivendicare l'essere pakistano in questa sede però anche il Pakistan che ha davvero tanti problemi per quanto riguarda il contesto religioso e ci sono forti tensioni all'interno di quel paese sul tema religioso beh signori lì le chiese esistono ci sono anzi girano se qualcuno vuole informarsi delle immagini che fanno vedere com'è il tessuto sociale ci sono immagini di musulmani di associazioni di musulmani che durante quei periodi che sono come dire ad alta tensione fanno quasi un cordone umano intorno alle chiese mentre ci sono i momenti di preghiera o di messa per in qualche modo garantire la libertà di culto e per in qualche modo assicurarsi che i cristiani che stanno professando la loro fede non siano vittime di attentati ma casomai lo siano in primis i musulmani quindi un paese dove tensioni sono fortissime ma nessuno mette in discussione il fatto che le chiese devono esserci e anche in quei paesi ci sono non ci sono se vogliamo l'esempio in Arabia Saudita in Arabia Saudita forse è l'unico paese dove non ci sono i luoghi di culto per altre minoranze per altre confessioni religiose ebbene quello è anche un nostro alleato come dire il nostro migliore alleato poi per qualsiasi tipo di politica nostro dell'Occidente per qualsiasi tipo di come dire anche affare economico noi su quella su condanniamo anche in quella sede il fatto che non venga garantita la libertà di culto però andiamo a vedere Egitto Marocco Pakistan Senegal qualsiasi paese uffricano beh le chiese lì ci sono signori e sono fatte secondo le leggi di quei paesi quello che chiediamo noi qui non è la realizzazione di un luogo di culto in base alla legge della Sharia ma in base ai principi determinati dalla Costituzione italiana e dalle leggi italiane noi non chiediamo il rispetto di chissà quali regole che stanno fuori dal nostro ordinamento chiediamo la realizzazione e la concretizzazione di quei principi che sono stati declinati nelle nostre leggi nella nostra Costituzione e per nostra intendo italiana grazie Jacopo Scandella quali passi ci saranno adesso ormai siamo alla fine della discussione in commissione il Partito Democratico ha discusso tentando di portare avanti le ragioni contrarie a una regolamentazione di questo tipo adesso che succede? sì purtroppo i tempi sono molto stretti nel senso che ieri è arrivato l'ultimo parere appunto degli uffici legali del Consiglio che nuovamente stroncano il progetto di legge parlando apertamente di una incostituzionalità che io credo verrà dimostrata purtroppo ci vorranno dei mesi forse degli anni ma sono convinto che alla fine questo progetto di legge nel medio periodo poi non non verrà accolto e non verrà giudicato costituzionale nonostante questo domani ci sarà la votazione definitiva in commissione del progetto di legge che a meno di intoppi che però in questo momento sembrano non essere all'ordine del giorno dato che la maggioranza comunque si espresse in maniera compatta a favore dell'ultimo emendamento presentato al relatore martedì 27 cioè martedì prossimo arriverà in aula il progetto di legge per per l'approvazione definitiva quindi questi sono i passaggi che a livello istituzionale avremo noi cercheremo nei prossimi giorni con alcune iniziative di comunicare e comunicare magari meglio anche raccogliendo alcuni degli spunti che sono arrivati dagli dagli ascoltatori esatto per per provare a far passare questi concetti a far capire quanto questa legge sia inopportuna e io credo anche se mi permetti un accenno inopportuna proprio come momento storico io credo proprio che nel dibattito che c'è stato in commissione si è vista un tentativo di assimilazione quasi così naturale tra l'islam e il terrorismo tra le altre religioni e l'insicurezza la paura io credo che questo sia un clamoroso errore storico cioè in questo momento noi non possiamo permetterci di pensare che queste persone italiani che hanno un culto diverso da quello magari della maggioranza dalla religione cattolica siano nostri nemici cioè io credo che quelli siano invece i nostri alleati in una battaglia più grande che è la battaglia tra la libertà e la violenza e lì io credo che con queste persone noi abbiamo la necessità di dialogare abbiamo l'obbligo di dialogare se vogliamo difendere quei principi di cui parlavo prima quindi questo errore storico io credo che non possa non debba essere commesso da una regione come la nostra purtroppo però martedì 27 avremo la risposta definitiva tra l'altro 27 gennaio giorno della memoria è singolare diciamo che è una coincidenza ma perché hanno voluto correre così tanto non li ero usati su questo provvedimento perché stanno correndo così tanto? secondo me è per interdire quanto sta avvenendo nel comune di Milano nel senso che loro in questo caso all'interno del comune di Milano in consiglio comunale all'opposizione hanno provato in tutti i modi per bloccare diciamo questo 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 bando da parte del comune e non essendoci naturalmente riusciti stanno cercando di cambiare le regole al fine di poterlo di poterlo bloccare in corso in corso di realizzazione devo dire bando che ha aperto anche una serie di discussioni all'interno di un'altra come quella di Milano io penso sia una discussione utile anche perché poi emergono anche le differenze le articolazioni discutere di questi temi non significa essere buonisti significa non girare la testa dall'altra parte rispetto a un mondo che sta profondamente cambiando e che ti pone di fronte a delle questioni e dei temi ai quali la politica e chi amministra e chi governa è chiamato a dare una risposta lo dico anche perché mi sembra una grande contraddizione il decidere di fare una cosa di questo genere è l'aver deciso ad esempio di mettere la lettera N del Nazareno all'interno dell'entrata dell'edificio del Pirelli cioè la comunità noi sappiamo cristiana è spesso oggetto di discriminazione di attacchi anche pesantissimi in giro per il mondo e in una realtà come la nostra dove diciamo la religione cattolica la religione cristiana è preponderante noi dovremmo dare un segnale di apertura cioè noi dovremmo capire proprio perché molte comunità in giro per il mondo cristiani subiscono attacchi e discriminazioni come invece noi si debba rispondere dando la possibilità di avere una maggiore libertà di culto a tutti coloro che come dire vogliono liberamente esprimere il culto religioso avendo naturalmente seguendo delle religioni che sono diverse rispetto alla religione cristiana e alla religione cattolica quindi mi pare una contraddizione da una parte si rivendica giustamente il diritto di culto da altre parti e qui si sta utilizzando una legge diciamo urbanistica per mettere i bastoni fra le ruote tu mi dicevi come finirà la cosa beh indubbiamente dopo l'azione che noi faremo sia in commissione che in consiglio qui c'è nel caso dovesse passare ci sono evidentemente dei chiari elementi di incostituzionalità noi ci auguriamo che sia il governo italiano impugnare una cosa di questo tipo cioè così come il governo italiano ha chiesto delucidazione ad esempio sulla legge della competitività per l'introduzione della moneta lombarda e quant'altro noi ci auguriamo che sia il governo e quindi noi ci muoveremo in tal senso affinché sia il governo a compiere un atto politico forte come l'andare a impugnare questa legge regionale faccio ancora il provocatore un po' la mia funzione in questo contesto perché c'è chi dice non fategli ingenui perché con l'idea qua di dare possibilità di aprire luoghi di culto e cose del genere e poi alla fine nell'ottica di altre religioni e segnatamente dell'Islam questi vengono e ci vogliono conquistare vogliono imporre comunque le loro regole prima l'avvocato Sayed diceva vogliamo stare alle regole della Costituzione qualcuno da casa potrebbe dire sì sì finché non comandate poi dopo la Costituzione la mandate a quel paese no io credo sinceramente che questo sia più uno spauracchio che una reale preoccupazione intanto non dimentichiamoci che stiamo parlando di una minoranza religiosa è una minoranza religiosa anche nei numeri molto come dire esigua è vero che l'Islam è la seconda religione sia a livello italiano che a livello locale lombardo milanese che è professata dai cittadini però si tratta comunque di una minoranza religiosa se i numeri vengono paragonati a quella che è la realtà italiana parliamo di 2 milioni di musulmani su circa 60 milioni di italiani parliamo di 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 100 mila musulmani su una su un'area che ha guarda ha tipo 2 milioni di abitanti quella milanese quindi è una veramente una paura più costruita che più uno sparo occhio che una reale paura e soprattutto non c'è io non vedo e questo è un messaggio che non passa mai non c'è una reale contraddizione tra quelli che sono i principi religiosi dell'Islam ad esempio e quelli che sono i principi sanciti dalle nostre leggi e dalle nostre e dalla nostra Costituzione questo credo sia veramente un falso mito quella di un necessario conflitto tra queste questi due tipi di sistemi chiamiamoli così giuridici certamente ci possono essere delle divergenze ma non lo vedo come un un necessario conflitto che si deve in tutti gli ambiti manifestare io vorrei che in realtà su queste cose si ragionasse anche dal punto di vista di un fedele musulmano islamico che appunto come dicevo prima fa parte di una minoranza religiosa e vede queste difficoltà stiamo parlando della costruzione di un luogo di culto dove un fedele comunque vorrebbe andare o comunque dovrebbe andare ed è una fase che una città come Milano che ospiterà quest'anno l'Expo deve passare da tutte le istituzioni fondamentalmente dal comune alla regione al governo e voi non mi metterò qua a fare politica o a parlare di questioni che riguardano le istituzioni italiane ma questo dà l'idea della frustrazione che può esserci in quel fedele che non vuole dire altro che voglia semplicemente andare poter andare in un luogo riconosciuto e noto a tutti e poter pregare in pace questo deve passare per tutte le istituzioni a ogni livello e credo sia molto frustrante per non parlare di quella che è una vera difficoltà secondo me momentanea perché poi non è di quello che si discute durante l'Expo noi ospiteremo più di 20 paesi musulmani e non sapremo indicare nella città di Milano un luogo dove i fedeli musulmani che in quei casi sono anche dei ricchi signori che vengono a fare come dire molti affari a Milano in Monte Napoleone spendono più dei cittadini milanesi non sapremo indicare a loro dove possono andare a pregare o dove possono andare durante il mese di Ramadan per iniziare o interrompere il loro digiuno io credo che questo per una città come Milano sia imbarazzante possa essere veramente imbarazzante abbiamo parlato moltissimo di Islam e in realtà c'è chi ci chiede ma queste restrizioni sono solo per le moschee o per tutti i luoghi di culto? per tutti i luoghi di culto nel senso che per i luoghi di culto di nuova costruzione ad eccezione dei luoghi di culto di religione cattolica tutte le altre fedi appunto come dicevo prima che abbiamo incontrato in audizione saranno soggette a questi nuovi criteri quindi la necessità di redigere questo piano delle trattazioni religiose e quella che era una difficoltà da parte dei comuni ad andare a individuare questa realtà sarà acuita da questi aggravi burocratici quindi che si tratti di una sinagoga piuttosto che delle chiese protestanti eccetera tutti dovranno sottostare a questo principio a meno ovviamente che intervenga poi una sentenza della corte che dichiari questa legge incompatibile con il nostro ordinamento il paradosso che ad esempio anche i maruniti per dire che sono i cristiani del libano che non sono tecnicamente cattolici ma sono di fatto cattolici per come scritta questa legge non potrebbero avere un luogo di culto della città di Milano ne abbiamo esaurito il nostro tempo mezz'ora che è volata direi così come le lunghe discussioni anche in commissione territorio su questi temi sono andate molto al di là dei tempi che solitamente la commissione prevede e stabilisce vedremo insomma vi do due coordinate domani la discussione finale e il voto in commissione il 27 di gennaio giorno della memoria il voto in aula vedremo come PD porteremo le ragioni contro questa regolamentazione staremo a vedere l'atteggiamento che terrà la maggioranza che al suo interno ha riflettuto ma evidentemente poi ha fatto prevalere ragioni di ordine politico più che ragioni di ordine istituzional logico vabbè comunque sono scelte scelte politiche grazie a Reas Sayed avvocato del CAIM grazie a Norio Rosati consigliere regionale e a Jacopo Scandella a sua volta consigliere regionale grazie mi dimentico se no non è bene anche a chi ha curato la parte tecnica ovvero Valeria Vercelloni e Marco Chiappa da parte mia sono Fabio Pizzul un arrivederci alla prossima volta grazie a tutti